Sgonfi le gomme e così le goffi. C'è il compressore con un sistema che porta. Poi ha due pompe di sentina perché quando imbarca acqua deve buttarla fuori. E qua sotto hai delle leve che puoi allagare determinati compartimenti perché se sei molto carico dietro sta così. Allora con quella lega allaghi davanti e allora si bilancia il carico. E tu devi qua sotto vedere quale zona allagare. Questa invece è un'altra cosa, questa qua mette l'aria dentro i differenziali. Perché quando vai nell'acqua non deve entrare l'acqua dentro i differenziali. Allora sono in sovra pressione e spinge fuori. E' meglio che vado con una goccia di olio piuttosto che entri una goccia d'acqua. E poi c'è il non smog perché spingeva tutto qua. E ora spegniamo un bel olio. Giù, così. Ma è già un po' di sì. Non so ci stai proprio questo senno da c'è. E' meglio che sei un po' di sì.